Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video sul canale, oggi sono qui per parlarvi della partita appena giocata, finita 5 minuti fa, adesso vi sto registrando il video, tra Inter e Villareal, giocata a San Benedetto del Tronto, vinta per 3-1 dai nero azzurri. Allora, analizziamo un po', difesa secondo me c'è sempre qualcosina da migliorare perché potevamo fare di più sul gol di Soldado, allora Skriniar a me è veramente, io vado pazzo di Skriniar, per me si è riconfermato anche oggi al fianco di Miranda. D'Ambrosio che ci prova a mettere sempre il suo impegno, però alla fine non è un gran giocatore, però si impegna, a me piace, mentre Nagatomo io non riesco veramente a farmelo piacere. Per quanto riguarda il centro campo, veramente io Borca Valero al bacio, al bacio, un giocatore che a me piace veramente tanto e penso che è un ottimo acquisto, un ottimo acquisto anche per il prezzo che abbiamo dato, quindi anche per il prezzo a cui l'abbiamo preso, quindi veramente tanta roba. Per quanto anche in mezzo al campo abbiamo giocato bene, anche segnato Brozovic e poi l'attacco, passiamo all'attacco con Pelzic, meno brillante del solito che andrebbe abbastanza bene tutto sommato, ha fatto l'assist per il primo gol e poi le tre punte. Allora, Eder ha fatto il primo gol, lui quando gioca, gioca sempre bene, giocatore che a me piace, ma mi piacciono tutti la davanti sinceramente. Eder è veramente bravissimo, lui è uno che non si lamenta mai, sta in panchina, entra e quando gioca fa bene, segna, gioca per la squadra, non è svogliato, quindi veramente bravissimo. Passiamo a Jovetic che è un altro giocatore veramente fortissimo, ha fatto un gol fantastico, veramente un gol assurdo, però è sempre un problema tenerlo. A me io lo vorrei tenere perché se manca Icardi, se si fa male Icardi, Jovetic, cavolo lo metti dentro, è fortissimo, veramente fortissimo. Però ovviamente lui, anche giustamente, non si accontenta di non star titolare, perché lui è veramente forte, forte. Icardi da davanti è titolare e non Icardi va a giocare titolare, ovviamente. Quindi è un peccato, è un peccato se se ne va, sarebbe anche giusto, sarebbe anche giusto, soltanto che abbiamo troppa roba e alla fine è troppa roba forte e alla fine finisce sempre che nessuno, alla fine, riesce a mettersi in mostra del tutto e finisce male, c'è nel senso che finisce male. Alla fine nessuno dei tre giocatori riesce a mettersi in mostra del tutto, comunque c'è nessuno tra Jovetic e Eder. Comunque Jovetic, gran giocatore, io lo ripeterò sempre. Mentre passiamo ad Icardi, che è entrato gli ultimi dieci minuti, mi sembra, e niente, Icardi ha giocato bene, ha fatto l'assist per il terzo gol, nulla assolutamente da dire. Al contrario di come è una cosa che si dice su Icardi, a cui non sono per niente d'accordo, che lui sta lì fermo davanti alla porta, aspettare che il pallone gli arrivi e poi segna. Perché ha dimostrato nell'ultima stagione che non è così, ha lavorato per la squadra, a me è piaciuto. Oggi ha fatto l'assist, aspettava lì la palla sulla tre quarti, ha fatto un assist veramente bellissimo, una gran palla servita a Marcello Brozovic. Quindi io non sono d'accordo su questa cosa, perché zittisce la gente che lo critica, Rosicona, sempre di più. Rosicona è anche non, perché sono anche i tifosi dell'Inter che lo dicono. Comunque ragazzi, per questo video è tutto. L'Inter batte 3-1 via Real sui gol per il via Real di Soldado e dell'Inter di Eder, Yo-Yo e Brozovic. Lasciate un like, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video.